L'Italia è la terra che ho scelto, ma il mio cuore è il Marocco, perché dovunque la vita ti porta, non ti dimentichi mai da dove vieni. Parola di capitano. Mi chiamo Mehdi Benazia, nazionale del Marocco. Le navi GNV uniscono due terre che amiamo, l'Italia e il Marocco. Trenota su gnv.it